La Giunta Comunale di Pesaro, attraverso l'assessore all'operatività Enzo Belloni, ha presentato oggi il nuovo regolamento di Polizia Urbana da presentare in commissione e sottoporre al voto del Consiglio Comunale. Si tratta di un nuovo regolamento pensato per resnellire un documento che risale a 90 anni fa, divenuto obsoleto e poco consono alle esigenze attuali, nonché fuori fase rispetto a leggi statali e regionali e alle disposizioni inserite negli altri regolamenti comunali approvate negli ultimi anni. Una delibera che sarà anche un importante atto di semplificazione riducendo da 175 a 38 gli articoli. Uno strumento che permetterà di affrontare con celerità situazioni legate in particolar modo alla condivisione di spazi e alla diversa percezione di disturbo, sicurezza, decoro e rispetto. Tra le novità introdotte ci saranno nuove disposizioni previste per regolamentare i cantieri rumorosi nella zona mare e in centro storico, nelle prime ore della mattinata e nella prima fascia del pomeriggio. Regolamento che aggiorna anche la pulizia delle deiezioni animali con l'obbligatorietà per i padroni degli amici a quattro zampe di usare bottigliette d'acqua e sacchetti per pulire. Inserite anche indicazioni per intervenire a risolvere situazioni di bivacco. Regole infatti pensate per coinvolgere in modo operativo la polizia locale nel monitoraggio di quanto previsto dal regolamento per il decoro e che valgono per l'intero territorio comunale.